Ho scelto di guidare il nuovo RAV4 Connect con sistema multimediale Toyota Touch & Go. Ho scelto il massimo del comfort. Ho scelto di guidare quello che sono. Non rinunciare alla tua vera natura. Nuovo RAV4 Connect a 24.900 euro con sistema Toyota Touch & Go e sedili in pelle Alcantara. Tutto di serie. Tutto di serie.